Il Comando Carabinieri, tutela del patrimonio cultura, ha restituito al Consiglio regionale un capolavoro del maestro Renato Guttuso, sottratto all'Assemblea l'8 gennaio del 1992. Si tratta di un dipinto a china ed acquarello, su carta, intitolato Terremoto in Friuli. L'opera è stata recuperata il 2 marzo scorso nell'abitazione di un collezionista forlivese. Il recupero è uno dei classici recuperi che noi effettuiamo, uno dei tanti recuperi che noi effettuiamo nella nostra azione di recupero e salvaguardia del patrimonio culturale italiano. In questo caso il bene era stato posto in vendita su un sito di vendita online e comparando la foto di quello che appariva nel sito con la foto dell'opera d'arte che a suo tempo era stata rubata, siamo riusciti a rintracciarla.